siamo arrivati al settimo capitolo Fast and Furious 7 è un po' che è uscito sto trailer ma ancora adesso sta vabbè me lo guardo slap pacconi in os a manella vai mo coraggio mettiamoci al lavoro ehi Roman te la fai sotto? no io dico di sì qualcuno mi può dire che cosa dovremmo fare? no ma adesso vola boom bando pensavi che non ci fosse niente di meglio eh? si comincia esageriamo tipi alè un ministro diverso dal solito non si è mai visto 6 macchine di eseguimento di un camion questa volta è un autobus è un autobus alè vai taglielè tagli ragazzi cancela lì guardi torna al pionio oh tonica ci imbocca già andava a Tailandia sull'arbe pacconi è iniziato tranquillamente questo trailer molto easy molto light 50 sfumature di nofis un burrone incredibile incredibile che originalità assurda mi sembra le corasse s'aggrappa lo spoiler puntata se ci sarà fatto il nostro notiz io sono Gesù Statham carci in bocca Gesù Statham questo è il suo fratello come si fa a commentare una moda allora FBI slavio pacconi mitra fuga musica slavio pacconi nostre amane eh conversore promettico per me la spinta pende con la macchia al lavoro le roc spacco il gesto col govito questo è un mondo che non gioca a secondo me catrassi santo addio ieri 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 puttana e che ti piace o no a cric in bocca a cric in bocca io non ho amici ho una famiglia c'ho una famiglia puttana group ma chiesto ma sto 2015 ma sto 2015 slavio pacconi no sculi e musica rap io santo addio cinema